Buon pomeriggio a tutti della Silite, dell'Associazione Culturale e di Informazione Territoriale Lucana. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Giulia Scavone, la Project Manager e Agency Coordinator dell'Agenzia Spagnola del Network Etienne, il gruppo delle agenzie formative Education Training Network. Buongiorno Giulia, di che cosa si occupa Tribeca? Tribeca è l'agenzia spagnola del gruppo Etienne, Education Training Network, ci occupiamo di formazione e mobilità. Collaboriamo con scuole, soprattutto scuole professionali di tutta Europa e con imprese che ricevono i ragazzi di formazione professionale che soprattutto ricevono borse di studio nell'ambito di progetti europei, soprattutto Erasmus+, ma anche progetti PON che quindi prevedono un'esperienza di formazione e mobilità. Non solo per i ragazzi di formazione professionale, anche per i docenti, organizziamo corsi formativi, visite professionali, seminari e eroghiamo anche servizi di formazione per enti di formazione, per esempio che si dedicano alla formazione per adulti. Lo facciamo sempre in una dinamica, in una dimensione internazionale, europea soprattutto. Ma che cosa sono in pratica questi progetti dell'azione chiave 2 del programma Erasmus+,? L'azione chiave 2 del programma Erasmus+, prevede la creazione di gruppi di lavoro internazionali, partenariati strategici che lavorano in collaborazione per creare delle soluzioni innovative a bisogni educativi dei diversi ambiti della formazione. Quindi si creano gruppi di lavoro tra esperti che operano in diversi ambiti, a diversi livelli e che lavorano insieme per creare soluzioni. E mi dici quali temi avete lavorato in questi ultimi anni? Su quali temi? In seno alle agenzie di Etienne ci siamo indirizzati soprattutto su due temi. Uno è quello delle competenze trasversali per quanto riguarda i ragazzi VET e l'altro è quello della formazione per adulti. In particolare con l'agenzia Tribeca abbiamo lavorato al progetto Skills Act for VET, che è un progetto che crea delle soluzioni soprattutto per i ragazzi che fanno tirocini all'estero, quindi quello che è il nostro expertise. Sugli stessi temi le colleghe dell'agenzia tedesca di Berling, da Berlino, con un gruppo di lavoro internazionale che coinvolge anche altre realtà lucane, stanno lavorando al progetto Playing for Soft Skills, dove attraverso la creazione di un gioco educativo originale e innovativo stanno lavorando a servizio della formazione professionale e quindi dei docenti e dei ragazzi, proprio a dimostrazione della centralità dei temi e di quanto diverse agenzie nazionali sono interessate allo sviluppo e all'implementazione delle competenze trasversali. Ricordiamo anche che ovviamente il TN è presente anche a Berlino e ha anche altre sedi e quindi è leader nel panorama della formazione. Ora Giulia, ci dici in dettaglio i pastennariati strategici a cui Tribeca sta lavorando? Per quanto riguarda Tribeca, ritorno sul progetto Skills Act for Vet, storicamente i progetti di mobilità avevano un focus privilegiato sull'acquisizione delle competenze linguistiche e delle competenze tecniche dei ragazzi, che sono imprescindibili, dalle quali non si può prescindere. In realtà, osservando migliaia di studenti ogni anno nelle nostre agenzie, abbiamo visto come molto spesso il punto chiave dell'esperienza trasnazionale proprio riguarda l'acquisizione delle competenze blande, trasversali, che oggi tra l'altro sono quelle anche su cui si fa tanta attenzione in serie di selezione, come le risorse umane, quindi in ambito di risorse umane. Le soft skills, come le hard skills, sono le cose più gettonate nell'impresa che vorrebbe assumere. Esattamente, per cui abbiamo lavorato con un gruppo di lavoro internazionale, abbiamo esperti di diversi ambiti, e abbiamo creato degli strumenti sia a servizio dei ragazzi, degli studenti e dei tutor in impresa per valutare e meglio attivare quelle competenze trasversali che abbiamo, a seguito di un'indagine, individuato come le più richieste. E poi, dall'altro canto, abbiamo creato un corso dei contenuti formativi per i docenti VET che serva a guidare i docenti che poi si occupano delle mobilità, che sono i docenti accompagnatori dei ragazzi oppure i coordinatori di progetti di mobilità per guidare i ragazzi all'ottimizzazione. Quindi i tutor, i docenti che possono investire per quanto riguarda il bonus docenti del MIUR e tutte le persone che si apprestano a vivere in modo diverso le lingue e quindi la scoperta e i viaggi nel mondo. Sì, e questi contenuti sono a disposizione di tutti perché i risultati dei progetti Erasmus sono a disposizione di tutti. E poi abbiamo l'altro progetto che è un progetto che si focalizza sull'educazione per adulti che è un altro filone importante nell'ambito del programma Erasmus Plus e dei partenariati strategici perché proprio l'evoluzione del mercato del lavoro se da una parte ha posto in rilievo l'importanza delle competenze trasversali dall'altra ha dimostrato come ai lavoratori è richiesto durante tutta la vita professionale di continuare ad imparare per cui ci siamo chiesti quali strumenti possano essere utili per gli enti di formazione per adulti e i formatori per adulti per valutare la propria performance e la propria offerta formativa e per mantenersi aggiornati, formati a questo abbiamo lavorato con il progetto IPAL Grazie Giulia Grazie a te per averci dato un contributo notevole con la tua intervista a far conoscere sempre più Etienne e quindi i suoi progetti innovativi e quindi la nostra slogan è sempre Stay Tuned Grazie a te Grazie a te